cavoli avrei proprio bisogno di qualche cosa di frizzante per dare un po di pepe a questa noiosa vita eppure non ci trovano in te ed eccoci in qui in questo incredibile paurosissimo episodio della paura fa il godo capito? la paura fa il godo e quindi noi godiamo e benvenuti in questo nuovissimo assurdo folle episodio della paura fa il godo basato su come avete visto dal titolo e dalla pecopertina basato sul... mi sono dimenticato mannaggia sul lavandonio ovviamente si dimentica tutto guglielmo mannaggia e ragazzi io con la mia testalina è piccolita come una noce non è che posso ricordarmi tutto è mannaggia comunque come vedete questo è l'incredibile lavandonio credo no? ma credo proprio di si adesso ne parleremo incredibili però in questo video approfondiremo non tanto la vendonia ma la canzone e la musichetta incredibile no questa di sottofondo è un'altra tranquilli mannaggia ma fra pochissimo eh state lì ed eccoci qui dunque benvenuti eh l'ho già detto vabbè eh come vedete questa è lavandonia la città incredibile di lavandonia e l'ho detto due volte sì per rafforzare il concetto come sempre ehm è una città del cazzo diciamoci la verità è una città del cazzo ma l'hanno detto anche gli stessi sviluppatori quindi il il problema di questa città è che non deve avere un cazzo quello che deve avere sapete che cos'è? l'essere particolare gli sviluppatori volevano farlo particolare capito? volevano renderla una città incredibile particolare, spaventosa, creepy e ci sono riusciti ma forse fin troppo direi ehm visto che molti diciamo povere vittime, poveri bambini ehm si sono ritrovati ad avere dei traumi seri ehm dei traumi seri sul serio sto dicendo dei traumi seri alcuni ci sono morti purtroppo e ehm se pensate che tutto questo è successo per un gioco del cavolo cioè per quanto possa essere bello però insomma morire per un gioco insomma ehm non è una cosa normale capito? quindi maledetti ecco no scherzo però sì insomma ecco dovete essere più tranquilli con questi poveri bambini maledetti e infatti poi è stato insomma il gioco è stato modificato subito infatti quello che è arrivato da noi ehm in Europa in Italia è in realtà un gioco modificato capito? e non è come quello originale giapponese insomma ehm capito ehm insomma ed eccoci qui all'iSwitch incredibile così non ve lo aspettate vado 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 velocissimo mamma mia madonna incredibile esatto la referenza esatto eh eh mamma mia fonte siamo bravi incredibile e dunque il giocatore quando arrivava in questa città che cosa succedeva? succedeva che partiva una musica una musica terrificante ehm terrificante cattiva binaurale ecco così a caso no non è vero non è a caso perché questa musica perché ha traumatizzato tanti bambini perché è fatta con i toni binaur binaurali e non so dire non so parlare porca troia si può dire porca troia si può dire non lo so senza offesa però mannaggia maledetti voi non so nemmeno chi sono questi sono degli npc forse vabbè comunque e appunto questi toni binaurali che cosa sono? se voi avete le cuffie da una cuffia vi entra una certa frequenza e dall'altra un altro tipo di frequenza insieme fanno la musica che ascoltate normalmente questi toni binaurali però hanno diverse frequenze tra una cuffia e l'altra per cui vi si spapola il cervello no scherzo in realtà sono cose normalissime che semplicemente spostano tipo la frequenza del cervello e normalmente si usano per rilassarsi per studiare per dormire per sbordare no cosa stavo dicendo non lo so ci dissociamo ovviamente e insomma si usano per cose normali questi qui lavandoni l'hanno usata per insomma terrorizzare le menti dei poveri cuccioli mamma mia alcuni sono stati proprio traumatizzati a vita altri avevano istinti suicidi alcuni si sono proprio suicidati altri sono insomma cose brutte veramente cose brutte maledetti maledetti di nuovo ecco scusate però non è giusto fare queste cose a dei poveri innocenti ecco infatti il gioco in Giappone prima era uscito ma poi quello che abbiamo visto noi in Europa cioè noi insomma io ero già ero ancora nel grembo della mia bambina però insomma magari quelle più grandi dicelli di me hanno visto questo gioco che è arrivato in Italia però quello lì era già modificato meno male direte voi infatti sennò pure i bambini italiani morivano e quindi insomma questo è quanto in realtà comunque c'è da dire che non era tutta colpa della canzone perché era pure colpa di di questa cosa qui ecco così mi vedo però di questa torre del cazzo qui la torre di Lavandonia la torre di Lavandonia la torre di Lavandonia mamma mia la torre la torre di Lavandonia scusate mi sono mi sono incantato come un disco ha detto Guglielmo che mi fai ridere mannaggia comunque della torre ne parleremo in un'altra occasione secondo me se no facciamo troppa confusione tu che dici? sì 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 ne parliamo in un'altra in un'altra occasione in un'altra occasione incredibile check it out prossimo clip eccoci siamo sbucciati una cosa che ci siamo dimenticati di dire prima ci siamo dimenticati di dire prima veramente è che noi abbiamo detto sì abbiamo parlato di Lavandonia ma in che giochi è apparsa questa cosa? nei primi giochi di Pokémon rosso e verde in realtà perché attenzione in Italia in Europa si chiama rosso e blu però in realtà è rosso e verde in Giappone perché? perché i giapponesi sono daltonici tutti quanti e non riconoscono il rosso scusate il verde dal blu esatto sono daltonici tutti quanti sì quindi andiamo guarda che è vero guarda che è inutile il cameraman che dice così guarda che è vero e io lo so lo so infatti tutti secondo loro io sono un cuoco verde Guglielmo mi ci vedi ad essere un cuoco verde? direi di no comunque perché non mi mette a fuoco mannaggia madonna guarda se non lo devi picchiare il suo cameraman vabbè comunque dicevo purtroppo non la sapevo questa cosa però mi fa ridere quindi i giapponesi non sanno distinguere i colori ma non state a sentire lui semmai va 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 vuoi saperne meglio di me stronzo stronzo cameraman stronzo cameraman dicevamo comunque questo qui è un early concept art del 1990 che l'ha fatto Satoshi quello lì Satoshi Tajiri come si chiama non lo so non ne ho idea ma non è importante comunque vedete questa è la prima torre di lavandonia se avevo detto che non ne parliamo ne stiamo parlando però no è solo perché non sappiamo se faremo mai una seconda parte del video quindi nel dubbio ve lo diciamo qui ve lo diciamo solo della torre poi del contenuto della torre magari ripartere un'altra volta visto come siamo commercial che cazzo si non significa nulla vabbè comunque questo è un'idea dei concept art del 1990 l'avrà fatto qualcuno di Game Freak immagino e penso sia l'allenatore insomma questa torre che tra l'altro mi sembra un faro misto a una prigione non so a me sembra un faro misto a una prigione non lo so vabbè poi di qua abbiamo il Generation 1 Games cioè appunto li parlavamo prima appunto di Pokémon rosso verde oppure blu e che questo sembra un metafora un ospedale è sempre un penitenziario una prigione incredibile perché li fanno simili alle prigioni deve essere una torre non una prigione e poi scusatevi un attimo io non sono un architetto io non sono un ingegnere civile ma dove cazzo c'erà le fondamenta a questo edificio se sotto c'è una cazzo di grotta io sono io sono stonto però queste cose le so pure io come cazzo ci fa ad essere una grotta sotto dovrebbe essere il cine fondamenta come cazzo si legge sto coso è una palafitta che cazzo è mistero della fede non sappiamo è mistero davvero poi questo qui invece è l'anima come vedete non c'entra un cavolo con questi qui queste non sono state però è totalmente diversa da quella del gioco ma è carino vedete ci sono gli occhietti sulla porta di quel pokemon c'ha gli occhietti pure sopra le corne insomma è molto creepy diciamo un'atmosfera ovvio non fa paura manco alle mosse manca pure che spaventano i bambini e li traumatizzano pure nell'anima e niente poi vabbè qui sotto ci sono cosa come si chiama Ash Lisa e Brooke e sì no volevo dire volevo dire cosa Misty ecco bravo Misty Lisa famosissimo personaggio di pokemon giusto palese palese best personaggio e niente questo è quanto poi guarda quanto ci scucciamo in questo in questo video giustamente facciamo la reference e dicevamo appunto vabbè quindi niente questa è una sempre lavandonia la città non mi ricordo se è dei giochi o se è proprio che che sono una fan art non so comunque è carino ci sta a colori si credo sia dei giochi art gold sul silver però non vorrei dire stronzate quindi nel dubbio diciamo che lavandonia foto lavandonia a caso quello che volevo dire è che alcuni membri perché insomma tanti dello staff hanno negato dice no no assolutamente non è la nostra incredibile gioco ad aver fatto traumatizzare i bambini no no altri invece hanno detto eh sì 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 assolutamente e infatti alcuni avevano proprio diciamo denunciato in un report hanno detto guardate che sono arrivate delle denunciate dei bambini che hanno dopo aver giocato al gioco hanno avuto questi questi e questi sintomi scusami quando ce vo ce vo eh eh maledetti anzi bravi voi che avete reportato ecco e fra questi report adesso ve ne facciamo vedere alcuni perché sono veramente spaventosi e raccapriccianti non è vero non l'abbiamo letto nemmeno noi però eh insomma immagino visto che insomma se ne sono detti di cose quindi adesso li leggeremo for the first time ever for the first time ever non so perché sto hypando per una cosa triste però li leggeremo li leggeremo insieme tranquilli eccoci qui allora dunque leggiamoli un po' questo ricordo è un report scritto proprio da un membro dello staff di Game Freak quindi non ci stiamo inventando cose e dunque il 12 aprile del 96 11 tra parentesi credo sia all'età del dei casi insomma del bambino o bambino apnea ostruttiva nel sonno emicrania otorragia e tinnito ci rendiamo conto questi sono i bambini ricordiamo perché dici sei un adulto mamma mia che triste cosa ma è un bambino porca troia madonna 23 maggio da sempre del 96 12 anni generale irritabilità insonnia dipendenza dal gioco e vabbè questa che lo sia normale in realtà però vabbè lasciamostra comunque sanguinamenti dal naso attacchi violenti prima contro gli altri e poi contro se stesso madonna terribile ma vabbè 27 aprile del 96 11 anni forti mal di testa itirabilità prescritti antidolorifici misti madonna pure questo cattivissimo poi 4 marzo del 96 ah giustamente l'anno riuscita 7 anni emicrania questo è più piccolo degli altri emicrania apatia poche reattività sviluppo di sordità e scom... come scomparsa come scomparsa vabbè ah vabbè sarà un sarà un errore di cosa di come si chiama forse forse è tradotto dall'inglese o dal giapponese quindi è tradotto male vabbè è scomparso il suo corpo ver... porca troia allora non era un errore è proprio scomparso il bambino no questo non me l'aspettavo verrà ritrovato il 21 dello stesso anno in margine della strada madonna terribile però i sindaci non sono tutti al tono di lavandonia o più comunemente chiamato lavenderton ton ton ma anche alla wispy spirit e alla gosse e alla burda love model e non sai leggere l'inglese credo comunque insomma terribile veramente che si è fecchi cioè i primi a fior di pelle mamma mia e insomma i miei due utensili da cucina sono veramente in 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 mamma mia terribile che dire non questo non lo sapevo non pensavo addirittura bambini scomparsi madonna terribile mamma mia maledetti di nuovo sì vabbè però bravi pokimoki fate cose carine cose però maledetti per quella cosa ecco e che dire assurdo va bene insomma dopo aver visto questa cosa scioccante penso che possiamo finire qui tu che dici meglio non andare avanti effettivamente prossima volta se volete insomma se questo video vi piaceva faremo la seconda parte della di insomma basata sulla torre di Aladone e su ciò che c'è dentro e e e se non vi piace allora succhiate esatto 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 il telecamera stava volando via esatto noi ci vediamo quindi al prossimo episodio che chissà non so di che cosa parlerà forse parlerà di gente alta o forse di gente insomma pallida chissà gente alta e pallida chissà chissà vabbè e niente quindi ci vediamo al prossimo episodio e ciao ciao addio ciao ciao addio ciao 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 ciao